Se ami i tuoi genitori, ma sono defunti, devi recitare tre preghiere per la loro anima. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera 1 O Dio, che ci comandi di onorare il Padre e la Madre, apri le braccia della tua misericordia ai nostri genitori defunti, perdona i loro peccati e fa che un giorno possiamo rivederli con gioia nella luce della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera 2 O Dio, tu hai voluto chiamarmi alla vita per mezzo dei miei genitori. Ora che essi non sono più sulla terra, dona alle loro anime la vita eterna, accogliendoli nella famiglia dei tuoi santi. Fa che io li riveda nella gioia della risurrezione. Amen. Preghiera 3 Signore Dio, non si può desiderare per gli altri più di quanto si desideri per sé stessi. Per questo io ti supplico non separarmi, dopo la morte, da coloro che ho così teneramente amato sulla terra. Fa, o Signore, ti supplico che lì dove sono io, gli altri si trovino con me, affinché lassù possa rallegrarmi della loro presenza. Ti imploro, oh Dio, affrettati ad accogliere i tuoi figli diretti nel seno della vita, sostenuti dal nostro amore, possano godere in te la felicità senza fine. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie 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 Grazie